E ora, mie piccole testi, farete un bel viaggetto in prima classe, nel vostro scompartimento privato, diritti fino a Timbuktu, e questa volta non tornerete davvero. Oh, oh, dobbiamo affrettarci, il camion dei trasporti sarà qui a momenti. Oh, oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Stanno là, dentro del carbone. Chi è l'anzio? Venite tutti fuori, spicciatevi. Aprete tutti a Timbuktu. Forse l'ultima cosa che faccio in vita mia. Ehi, Mac, il baule deve essere questo, eh? Già, e fa niente di meno che a Timbuktu. Oissa! Oissa! Miau! Miau!